Ci sono canali veramente con tanti iscritti, ad esempio ho visto canali che hanno molte meno views di quelle che ho io con molti più iscritti, perché lì dipende un po' molto dal tipo di target di persone che tu hai, no? Se tu hai un target di persone giovani, queste sanno tutte come iscriversi, hanno tutti gli account, a me capita, siccome io ho un target più alto, diciamo, sopra di malgascione e malgascioni, però nelle statistiche io ho persone, la maggior parte delle persone è tra, insomma, intorno ai 45 anni, 50 anni, 35 anni, insomma, alcune di queste magari non hanno l'account, non sanno come fare iscriversi, qualcuno davvero, Però questo influisce molto, quindi per seguire il numero di iscritti è importante, ma non è l'unica cosa, poi farò un altro video su cui spiego che cosa è, secondo me, veramente importante per crescere su YouTube, crescere non è soltanto come crescere come numero di iscritti Poi, questa è la prima cosa, poi dipende in che modo uno vuole crescere, perché dipende il personaggio che vuole creare Allora, per crescere devi fare ovviamente dei video con una certa frequenza, quindi la regolarità per avere più iscritti e fare comunque video con una certa frequenza Ma poi parlerò anche di questo in un video dedicato a quanti video fare su YouTube, secondo me Allora, per avere iscritti devi creare un tuo personaggio Allora, questo personaggio dipende da quello che tu fai, cioè, ovviamente se fai tutorial deve essere un personaggio che ha credibilità Se fai, che acquisisce credibilità, se fai invece, se sei un personaggio trash, ci sono personaggi trash, diciamo così, che invece fanno iscrivere le persone proprio perché, come dire, le persone li piani in giro fondamentalmente E ce ne sono molti, eh, che possono essere interpretati da un certo punto di vista anche come casi umani Per cui, o che fanno video, parlando magari di un tema, ma che sono video palesemente ridicoli, no? Quindi di fatto acquisiscono delle persone che si iscrivono proprio per... cioè, gli iscritti sono i primi denigratori, no? Mi vengono in mente diversi canali, che non cito comunque, dove le persone iscritte comunque sono fondamentalmente quelle che poi pigliano in giro fondamentalmente, no? E questa è però una possibilità, diciamo, per crescere Però è una possibilità che poi alla lunga ti brucia perché... Ecco, un'altra cosa secondo me importante Non è tanto il crescere di botto perché magari... può succedere, no? Che becchi quel video che per qualche motivo alchemico, diciamo così, degli algoritmi di YouTube Entra in uno stadio, cioè fa tante visualizzazioni Per cui tu sei trascinato su da un video Che però magari è l'unico video, no? E quindi tu per un po' di tempo vai avanti sull'onda di quel video lì Ma se poi non crei altri contenuti che possono piacere al pubblico, smetti Questo per dire che cosa? Per dire che... Alle volte a me è capitato in diverse... Cioè sono da diversi anni su YouTube Ho visto diversi canali Manco servendo il mio Ci sono magari periodi che c'è una crescita Perché magari becchi il video che ti fa crescere Poi magari c'è una decrescita O la crescita si ferma Insomma ci sono diverse cose Io non credo che l'importante sia crescere tanto subito Ma avere una costanza Cioè avere un canale che comunque cresce nel tempo costantemente Senza mai arrenarsi Ci saranno sicuramente periodi Negli anni in cui il canale crescerà di più In cui il canale crescerà di meno Come numero di iscritti Ma la cosa fondamentale è che le visualizzazioni Devano essere sempre comunque in crescita Quello o comunque attestarsi su un livello alto Numero di minuti di visualizzazione E poi il numero di iscritti Boh, varia un po' Perché ad esempio Periodi diversi in cui le visualizzazioni restano sempre costanti Ci sono periodi in cui gli iscritti aumentano Altri periodi in cui gli iscritti aumentano più lentamente Io non ho mai avuto periodi in cui gli iscritti non sono aumentati O sono diminuiti Ma periodi in cui crescevano più lentamente Periodi in cui crescevano più lentamente Detto questo La cosa fondamentale poi è Ripeto Posizionarsi Io consiglio nel posizionarsi Per quanto riguarda i tutorial Cercando di acquisire credibilità Quindi fare video Se evitando ad esempio Io